Serie di arresti per detenzione di droga ai fini di spaccio operati dai carabinieri della Compagnia di Piacenza. Un 31enne e un 28enne, entrambi nati in Marocco e domiciliati a Milano, sono stati scoperti con 103 grammi di cocaina pronta allo spaccio a bordo di un'utilitaria al casello autostradale di Caorso dai carabinieri di Ponte dell'Olio, coadiuvati dal personale della sezione operativa della Compagnia di Piacenza. I due arresti, operati verso mezzogiorno del 14 agosto, sono frutto di mesi di monitoraggio e pedinamenti di noti tossicodipendenti che periodicamente si recavano nelle campagne piacentine tra Roncaglia e Caorso, soprattutto nei fine settimana, per rifornirsi di sostanze stupefacenti. I due pusher sono stati intercettati al casello di Melegnano e seguiti fino all'uscita della A21 di Caorso. Bloccati e perquisiti, entrambi erano privi di documenti. Nella tasca dei pantaloni del 31enne c'era un involucro di cellophane con un etto di cocaina, mentre all'interno di una suola delle scarpe c'erano 170 euro. Il 28enne custodiva in un borsello altro contante e tre cellulari. Altri due telefonini erano in macchina, probabilmente utilizzati per mantenere i contatti con gli assuntori. Manette anche per un 24enne nigeriano residente a Vigolzone, sorpreso dai carabinieri della stazione di Piacenza Levante, a spacciare marijuana all'interno dell'area verde tra Via Calciati, Via Cammia e Largo Erfurt. Anche in questo caso, i carabinieri hanno svolto vari servizi di monitoraggio e osservazione dell'intera zona, anche con l'utilizzo di personale in abiti civili, fino all'arresto del giovane e alla segnalazione di un acquirente come assuntore.